L'istrutturazione è uno spettacolo che nasce da una considerazione. Con il Covid abbiamo scoperto che è il grande protagonista di questo mondo che abbiamo vissuto e che comunque probabilmente ci attende è la casa. E anche però da una considerazione forse più profonda che poi alla fine è importante che questa esperienza non deve farci tornare ad essere ciò che eravamo ma degli uomini migliori, diversi, ristrutturati e rinnovati. Arrivo con questo spettacolo in Puglia. Il fatto di arrivare qui affoggia mi emoziona perché questo è un teatro bellissimo. Essi devono fare felici giardini pieni di immaginazione, ville incantevoli per le vostre vacanze, alberghi per i vostri viaggi, aeroporti, stazioni per le vostre partenze, cliniche per la vostra guarigione e per le nascite, ma anche nobili cimiteri e nobili tombere. Esigete da loro città felici e civili. Ristrutturazione di Sergio Rubini e Carla Cavalluzzi con i musica da Ripostiglio al Teatro Giordano. E' il mio prego.